una partita ad altissima Danilo è sempre in difficoltà e adesso si c'è da dire che Danilo è in difficoltà lì li ha presi negli ultimi 5 minuti perché fino a prima era in difficoltà ma non aveva preso Giallo però le cose in area le faceva a calunio vai con la cronaca dai siamo sul campo l'Almadino è in vantaggio su Dortmund 3 a 2 Danilo chiede spiegazioni all'arbitro ma ci sono poche spiegazioni da chiedere perché purtroppo la gamba è altissima se è in ritardo e lì già sta munito quindi è giusto quello che sta succedendo continuo solo a ripetere che questo è esattamente uguale a quello che succede anzi che non succede all'Ipsia quando Vlaovic prende un calcione in un modo simile e al Varlano non si va qui si va perché bisogna far così ma bisognerebbe far sempre così intanto ci toglie la fascia da capitano deve cederla a qualcun altro quella io rimane in 10 per gli ultimi 6 minuti più recupero facciamo la cronaca del rigore poi andiamo in pubblicità solo 0-0 in casa vorrei vedere la faccia di Tiago Motto in questo momento ma non lo inquadrano non vorrei essere nei panni di Danilo quando rientra al spogliatore sai cos'è? che siccome la carriera di Danilo è stata problemata andiamo con la cronaca da Allegri dai pallone sul dischetto come si diceva c'è Perin sul dischetto che per adesso è il migliore in campo per distacco in assoluto partita da 7 e mezzo se non 8 secondo me aia 5 alla fine è pronto Perin c'è Undav quello che segniamo l'8 l'8 migliore migliore anzi l'8 migliore 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 si aspetta ancora che battano che fischia che fischia la massima punizione dell'arbitro parte adesso Migliore su Perin Perin è la sua serata che titolare in porta non ce ne sono che si cambia che si gira fa una partita che da 8 diventa da 10 con questo perché salva letteralmente risultato all'uomo occhio al calcio d'angolo fa una parata clamorosa su Migliore Perin va a parata benissimo l'8 migliore ha calcato molto ma molto bene alla sua destra all'interno del palo forze e Perin adesso va a ricaricare i compagni a chiedere attenzione ma la Juve in 10 rimane in 10 perché il rigore c'era bravo continuo a dire ragazzi il risultato in pubblicità pubblicità poi ci vediamo per la fine della partita delle partite Grazie a tutti